Non l'acquisto di quote della società Broni Stradella, la nostra volontà è anzi di razionalizzare velocemente le partecipazioni del comune di Pavia. Parole pesanti come Macigni, messe nero su bianco, dal presidente di ASM Pavia Duccio Bianchi, che sembrano frenare definitivamente a questo punto la trattativa finita al centro delle polemiche nelle ultime settimane. Si tratta di una lettera interna, recapitata dallo stesso Bianchi ai dipendenti di ASM e lavori, che porta alla data dello scorso 29 dicembre. Considerazioni che evidenziano la contrarietà di Bianchi all'acquisizione per circa 400 mila euro del 7% della società Broni Stradella, destinata a diventare completamente pubblica. Un documento che ha subito scatenato le reazioni dell'opposizione di centro-destra a Pavia. Noi ospichiamo che il prima possibile l'amministrazione voglia confrontarsi all'interno del Consiglio Comunale. Vorrei comprendere se, come pensiamo a noi, si tratta del classico soccorso rosso e quindi della volontà di andare in aiuto della Broni Stradella, o in verità c'è proprio al contrario l'idea di un piano industriale differente che va in questa direzione, quindi di occuparsi di rifiuti di ambiente e non di piscine, case di riposo, chiacchiere quotidiano. Un'autentica retromarcia su un'operazione ampiamente avviata da parte del PD, aggiunge il consigliere del nuovo centro-destra, Nicola Agniutta, tra i primissimi, a portare alla luce la trattativa nello scorso mese di novembre. Un passo indietro che ora viene visto come una vittoria dai gruppi di opposizione. Innanzitutto io rivendico con orgoglio il fatto di, a metà novembre, di aver portato alla luce questa operazione. In questo momento quello che sembra emergere è una retromarcia da questo punto di vista, io credo che possa essere considerata una vittoria da parte delle forze consiglieri politiche che avevano sollevato il problema.